Ma i nuovi marchi questa settimana non finiscono qui, perché abbiamo introdotto anche Stanley. Stanley ve l'ho presentato altre volte, è un marchio che mi avete visto usare tantissimo e a noi che amiamo vivere l'outdoor in tutta comodità, beh una borraccia termica risulta comodissima. Tra l'altro utile anche in ufficio, al lavoro, insomma tutte quelle occasioni in cui volete avere con voi dell'acqua fresca. Bene, queste borracce sono della serie Go di Stanley, la Quick Flip è una borraccia con il suo gancetto, potete appenderla o tirarla fuori dallo zaino attraverso il gancetto, una sicura che evita l'apertura accidentale del coperchio e... avete visto che bello? Ve lo rifaccio. E bevete. Ecco, l'apertura è generosa, vi permette di bere grandi sorsate, questa è una cosa che apprezzo sempre tantissimo. Quando avete fatto, richiudete, scatta e se dovete trasportarla nello zaino, bloccate la sicura e non si apre più. Sono borracce, dicevo, termiche, conservano la temperatura fino a 12 ore dell'acqua. Se ci mettete anche del ghiaccio si arriva a due giorni e mezzo, una cosa da pazzi, ma... Due giorni e mezzo, ragazzi. E dopo una giornata di utilizzo, magari volete lavarla, la aprite completamente, svitate il coperchio, la aprite così e la lasciate in lavastoviglie, doppia parete d'acciaio con una intercapedine con il vuoto. Ebbene, è il segreto per mantenere fresca la vostra bevanda. L'acqua frizzante ci sta benissimo, quando la aprite fate attenzione che fa un bel pop, ma è perfetta così. Quindi i vantaggi particolari di questa borraccia sono che funziona estremamente bene nel mantenere fredde le bevande, è comodissima da lavare e ricaricare, si apre con una mano sola quando state guidando, fate così, bevete e la rimettete a posto senza problemi. Io la trovo eccezionale, la uso al poligono, la uso in giro, la uso nei trekking leggeri. E' vero, pesa di più di una borraccia in titanio, in plastica o anche solo in acciaio con una sola parete. Però avete l'acqua fresca? Regoliamoci un po', io preferisco l'acqua fresca finché posso. Le capacità sono da 700, da 0,47 e da 1,06 litro. Sono tutte ottime, ovviamente questa piccolina va bene per esempio per i bambini, la portano da soli, bevono sempre qualcosa di fresco. Questa è la più indicata per tutte le esigenze, perché ha una sezione che sta nel portabibite della macchina, almeno nel mio. Mentre questa è quella più impegnativa, ottima per le avventure, per i trekking. Ma sulla pagina del prodotto, su backpack.it, trovate tutte le informazioni anche sulle dimensioni. Qualcuno si chiederà se sono utili anche per trasportare le bibite calde? No, no, perché ve lo sconsiglio in quanto per l'erogazione delle bibite calde sono necessari degli accorgimenti di sicurezza e questa è una borraccia pensata per le bibite fredde. I termos per le bibite calde arriveranno al momento giusto, ma non credo che adesso abbiamo quella esigenza lì, anzi fa caldissimo.